Non era di sopra? Non so, non l'ho vista. Deve essere scesa qui. Neanch'io l'ho vista! È successo davvero? Che cosa sta succedendo qui? Chris. Sam, cosa c'è? Chris, volevo solo dirti quello che è successo. Sono il capanno. So quanto è stato difficile. Josh era tuo amico. Ashley, basta. No, voglio dirti... Grazie. Grazie per avermi salvata. Ash, cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Non potevo. Ash, stai bene? Sì, solo che... Sai, tu è già... Guarda qua. Chris, cos'è successo qui? Beh, non sono un esperto, ma... Direi che è stato lanciato. Non potevo. Non mi piace affatto. Aspetta, hai visto anche tu? Visto cosa? Quello, Chris, quello! Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Sono seria? Perché non mi credi? Ho visto quella cosa, non conta niente per te. C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi, la mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. No, ti sbagli, l'ho visto e ne sono certa, Chris. Va bene, va bene, forse... Sì, forse hai visto qualcosa. Cerchiamo, cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? Sam, Sam può essere soltanto qui, Esce. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... E se Sam fosse nei guai, se ne servisse aiuto. Oddio! Andiamo. 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 Ma scherziamo? Cosa diavolo sta succedendo? Oh mio Dio che spavento! L'hai urtato tu, vero? Non credo, voglio dire, non lo so! Oddio, perché qui è tutto quanto così orribile? Porte che sbattono, cantele che si accendono da sole e quello spettro o qualsiasi cosa fosse! A seconda, tu non vuoi vedere cosa sta accadendo davvero? Come fai a non aver visto quella figura trasparente che è passata accanto a noi? Potrebbero essere allucinazioni! Io non mi immagino le cose! Beh, ho visto cose anch'io! Ho visto cos'è successo a Josh nel capanno ed è quello a preoccuparmi! Oh, Chris! Lo so! Lo so! Sai cosa mi preoccupa? Mi preoccupa Sam! Se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei! Non dirlo nemmeno! Ti prego, Chris! Aspetta! Chris, Chris, Chris! È il fantasma! Eh? Non l'hai visto? No! Perché giocavi col cellulare, stupido? Stavi twittando hashtag c'è un bel fantasma che ci dà la caccia! Ash, calmati, ok? Qui non c'è alcun fantasma! E di chi poi? Sei solo... Solo sconvolta per quello che è successo a Josh! Sei tu che non eri attento? L'ho visto! Ho visto un fantasma! E sembrava Anna! Aspetta, aspetta, cosa? Oh, forse, Beth! Cazzo, Ash, pensi che ci abbiano seguito dopo la seduta spiritica! Non lo so! Forse! Non è così! Perché i fantasmi non esistono, ok? Ok! Chi parlava alla seduta spiritica? Allora, Chris! Non lo so! Cos'è stato? Come fa un quadro a saltare via così dal muro? Ah, ecco qui! Oh mio Dio! Là! Guarda là, Chris! Non dirmi che non l'hai visto! Lo vedi? Lo vedi? Io non... Io non so! È una follia! Chris, ci sta mostrando la via! Oh, è incred... Guarda, guarda, Chris! Si vede dalle finestre! Si vede cosa? Mini mobili? No! È come una scena con bambole e tutto! Sì! Vedi? Questa chiavetta! Che ti dicevo? Il fantasma vuole aiutarci! Wow, 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 wow! Cosa sta succedendo? Oddio! È come... Non è come niente! Siamo noi! Nascosti ad aspettare Anna l'anno scorso! Ma è così preciso! Io ero seduta lì e là è dove stava Matt! Questa è opera di qualcuno che era lì! O di qualcuno o qualcosa che ci osservava! Forse è un avvertimento! Forse... Forse qualcuno l'ha messo qui per confonderti! No! Deve essere il fantasma! Vuole dirci che il pazzo ha ucciso Anna e per... Credo che sia questo bastardo! Sta cercando di farci uscire di testa! Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti! No! Oh, 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 oh! Oddio! È il diario di Anna! Stare tutti insieme qui, in montagna, sarà fantastico! Falò e poi fare il bagno! E... Oh mio Dio, Mike! Sono così... Ansiosa di stare con lui! Non posso leggere! È troppo triste, Chris! Cos'è stato? Veniva da là! Cos'è stato? Oh Dio! No! No! Che troia! Oh! Chris! Chris! Niente. Però tu lo hai visto, Chris. Davvero. Ho visto... qualcosa. Ma... ma dove è andato? Ehi. Ehi, guarda qui. Non sembra vecchio come tutto il resto. Un catalogo di lampadine industriali. Che cosa strana. Guarda. Una lampadina è cerchiata. È parecchio potente. In effetti mancava quel tocco sinistro. Accidenti. Cos'è stato? Aspetta, da qui si va in un'altra stanza. Ed è enorme. Chris, non so se voglio andare avanti. Dove ci troviamo adesso? Mi prendete per il culo. Sapevi che questo era qui. Questo? Questo è un intero altro hotel. Non avevo idea che fosse qui. Io credo di non farcela più. Sì, anch'io. Ormai sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. A dire il vero. Non so, Anna, che volesse fare. Sì, beh... Sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno. Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. Se fossi stato tu, non credi che saresti scappato? A chi piace essere preso in giro? La gente non mi prende in giro. Direttamente? Chris, l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al ragazzo che le piaceva. Non riesco a immaginare niente di peggio. Oh no! Che c'è? Il braccialetto di Sam. E lei non se lo toglie mai! Andiamo a trovarla. In fretta. Ehi! Ma... Ma questi sono finti? Ma chi stamperebbe dei giornali finti? Già, davvero. Una bella domanda. Sai cosa? No. Ashley! Ne ho abbastanza. Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo. Ashley... Ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo andarcene come se la uccidessimo noi? Maledizione. Ashley, andiamo. Perché hai sempre ragione? Non ho sempre ragione. Beh, quando hai ragione, hai ragione. Non importa, voglio solo andarmene. No. Dobbiamo trovare Sam. Forza. Chris, ho una sensazione davvero strana. Cosa hai intendo? Continuo a pensare che quei finti giornali siano in qualche modo collegati al tizio che ha ucciso Josh. Cioè? Come? Come se fosse una messa in scena? Sì, ma come? È come se tutto avesse quasi senso, ma sento che ci sfugge qualcosa. Sì. 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 Non è possibile. Ora vomito. Questo non è da mangiare. Perché diavolo è qui? Sì. 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 Ehi. Oh mio Dio non lo so che se lo abbia fatto davvero. Oh Dio! Dell'anno scorso Non pensate che sia uno scherzo un po' con lei? Quello stupido scherzo Non è... Non è un po' imbarazzante Non l'avevo mai visto Lei è così... Così come? Così emozionata Sono Anna Così viva Ciao Anna Non sospetta nulla Oddio Oddio Si sta togliendo la maglietta Non ti ricordavo così qua in volta Matt Che cosa ci fate qui? È orribile Mi sento uno schifo Non doveva finire così Sembri parecchio divertita È quella la parte peggiore Era soltanto uno scherzo Doveva essere divertente Sì Non voglio rivedere più questo filmato Mike Chris 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 Cosa sta succedendo? Esch Esch Calmati Ok Non ce la faccio I fantasmi E questo filmato E tutte le cose che volano in giro Calmati e ascoltami per un secondo Perché? Per quale motivo dovrei calmarmi? Sto infazzendo dalla paura Qui c'è qualcuno che ci sta prendendo in giro Cosa? Pensaci I fantasmi non usano le telecamere Non fanno questi giochetti Allora che c'è dietro tutto questo? Dico sul serio Dimmelo Non lo so Forse è la stessa persona che ti ha legato E ha ucciso Josh Giusto La stessa persona che potrebbe avere Sam Proprio ora Forse hai ragione Vorrei non averla Oh merda Guarda là Sangue Forse è di Sam Vediamo se si apre Dai Fatto ma Questa cosa è pesante Stai attento Devi passare Non riesco Presto Chris Ma cosa? Credo di aver visto Sam là Sei sicura? Lo so però dobbiamo controllare Io dico che chi sanguinava è passato di qua ok? Per cui andiamo ora Ok Sì hai ragione arrivo Era ora Questa cosa sta bene schiacciando Andiamo Non capisco Perché rinfrescare questo posto se già si gela? Non so cosa passa nella testa di questo tizio Aspetta Quelli sono Quelli sono Sì I vestiti di Sam Che è? Sbagliato Direi che è sbagliato Quindi lo psicopatico è stato qui sotto Sicuro Credi che sia ancora qui? Spero di no Oddio Perché questa cosa è qui? Domanda interessante Per favore Sam Oh Chris Oh no Ehi Sam 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 Chris È morta Oh cazzo Oh cazzo No non è morta Come lo sai? Che respira Allora Cos'ha? Cos'ha che non va? Credo sia svenuta Oh No 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 Non va bene Non va bene Dobbiamo portarla via Chris Oh perdo No Indietro Stalo andando da No 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 Vivi e impara Cosa? Vivi E impara No ne no 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 Espirand Cos'ha che non va bene La mia Cos'ha che non va bene